Il nostro passo importante nel difficile cammino della prossima stagione, al Catania è arrivato il nuovo allenatore Pippo Pancaro, 44 anni, ex difensore di squadre di Serie A tra le quali Lazio, Milan, Fiorentina e Torino, 19 presenze con la maglia della Nazionale Azzurra. Nel 2012 la sua prima esperienza da tecnico come vice di Dario Marcolin sulla panchina del Modena, già proprio l'allenatore che oggi va a rilevare. Il 4 giugno 2014 va a sedersi sulla panchina della Juve Stabia, meno di un anno dopo viene esonerato con la squadra terza in classifica nel girone C di Lega Pro. Al momento il Catania è iscritto al campionato di B, entro la fine di agosto avremo le sentenze definitive della giustizia sportiva sullo scandalo ai treni del gol e solo allora sapremo in quale categoria la squadra giocherà. Nessuna prova finora che giocatori siano stati pagati per combinare le partite, se il tentativo è rimasto tale la squadra potrebbe restare in B con una forte penalizzazione. Intanto ufficiale il prestito di Rinaudo al gimnasia, mentre Scalante andrà agli spagnoli dell'Eibar sempre a titolo temporaneo.